Buona giornata, iniziamo la conferenza stampa indetta dal Centro Studi sull'Intelligence dell'Università della Calabria per presentare i risultati del questionario degli studenti che hanno frequentato il Master sull'Intelligence nell'edizione dal 2007 in poi e presentando anche la settima edizione del Master sull'Intelligence, i cui termini per le iscrizioni scadono il 30 ottobre. Sono insieme con il dottor Luigi Barberio che è un imprenditore e sta frequentando la sesta edizione del Master in Intelligence ed è una delle colonne portanti del nostro Centro Studi che ha elaborato i dati di questo questionario che, come vedrete, sarà molto interessante e che poi sarà lui ad illustrare. Cominciamo con ordine. Nel 2007 l'intuizione di istituire un Master sull'Intelligence in una università pubblica italiana si dimostrò vincente. Già era preceduta questa iniziativa da corsi su questo tema avviati già nel 1999, da collane editoriali, avviate con la rubettino editore già dal 2002 e poi anche da articoli che furono ospitati dall'ora rivista del SISD per Aspera Ad Veritatem. Erano articoli che riguardavano sia il ruolo della comunicazione istituzionale in relazione alle attività di Intelligence e anche il rapporto tra università e Intelligence, un punto di vista italiano. Parliamo di 15 anni fa. Ora, oggi, dopo 15 anni, il tema è di grande e straordinaria attualità, tanto che Intelligence sembra essere quasi una parola chiave. Nella Università d'Estate, che abbiamo svolto a Soveria e Mannelli qualche settimana fa, si è definito l'Intelligence come un investimento culturale. Già dalla prima edizione siamo partiti dalla porta principale. Costiga, Francesco Costiga, Presidente Emerito della Repubblica, era il Presidente del Comitato Scientifico del Master. Così come del corpo accademico, del corpo insegnanti, faceva parte l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E la prima edizione venne conclusa dall'attuale Capo della Polizia, allora Direttore del SISD, Franco Gabrielli. Già nella prima edizione, appunto per rimarcare l'intenzione formativa di questo percorso, erano presenti gli ex direttori della scuola di addestramento del SISD Mario Maccono e del SISD Maurizio Navarra, cioè all'opposto del SISD Maurizio Navarra e del SISD Mario Maccono. Dobbiamo molto a Marco Valentini, già Direttore di Peraspera De Veritatem e attuale Direttore dell'Ufficio Legislativo del Ministero degli Interni, da sempre componente del Comitato Scientifico del nostro Master, il sostegno costante alle attività che abbiamo sviluppato. Finora abbiamo realizzato cinque edizioni, una edizione in corso e finirà nel dicembre di quest'anno. La settima edizione abbiamo sbandito i termini per potervi partecipare e i termini scadono il 30 di ottobre. Finora sono oltre 120 gli studenti coinvolti che provengono da tutta l'Italia e addirittura in un caso anche dall'estero. Tra l'altro il nostro studente a Lavana, il nostro studente che proviene dall'estero, viene dalla Spagna, si è qualche mese fa realizzato un dottorato di ricerca internazionale tra la Università della Catalogna e la LUIS di Roma per il primo dottorato internazionale sull'intelligence che c'è in Europa ed è stato conseguito da un nostro studente. Io ero il segretario della Commissione Esaminatrice. Quindi bisogna ragionare dal mio punto di vista su due registri, sul rapporto tra Università e lavoro e il secondo registro è sulla emergenza istituzionale e sociale che oggi riveste l'intelligence. Università e lavoro. Le università di tutto il mondo devono confrontarsi con il lavoro che cambia e aumentano i laureati in tutto il mondo e di riflesso aumenta anche la competitività. D'altro canto cambia il lavoro e cambiano anche le professioni, le competenze che servono alla società. Le università, come la scuola in Italia, hanno sempre avuto storicamente un rapporto difficoltoso con il mondo del lavoro, accentuato, nel caso nazionale, dal ritardo nell'utilizzo delle nuove tecnologie, che era stato stimato già diversi anni fa come un ritardo strutturale e quantizzato in diversi milioni di euro, quanto quasi una finanziaria dello Stato. Quindi questo ritardo è un ritardo che incide sullo sviluppo del Paese direttamente. Qual è lo scenario? Lo scenario qual è? Che noi abbiamo occupati in Italia, abbiamo pochi occupati giovani, abbiamo delle medie europee che sono molto debole per quanto riguarda l'occupazione, accentuati in misura maggiore al sud, c'è una diminuzione degli iscritti nelle università dovute al calo demografico ed è una diminuzione severa per le università del sud, dove è maggiore il decremento demografico, mentre fino a qualche decina d'anni fa era il sud che aveva un incremento demografico superiore rispetto al nord. Perché si è invertita la tendenza? Si è invertita sulla base della immigrazione che prevalentemente è allocata al nord, nelle grandi città del nord. Le lauree triennali probabilmente non sono state un affare e ne hanno contribuito ad aumentare in modo rilevante il numero dei laureati, che questo è un ennesimo ritardo italiano, e soprattutto non hanno contribuito ad agevolare l'entrata nel mondo del lavoro, tanto che da diverse parti si parla di fallimento delle lauree triennali. Non a caso qualche tempo fa era stato scritto un volume che aveva un titolo illuminante, 3 più 2 uguale a 0, facendo riferimento 3 gli anni della triennale, 2 gli anni della magistrale. Ora, il tema è anche quello dell'orientamento, perché il 70% degli studenti che dalle superiori pastano alle università scelgono non tenendo conto delle statistiche relative all'occupazione. Prevalgono motivazioni di tipo diverso. Oltre al numero dei laureati, ovviamente bisogna parlare di qualcosa che è ancora più importante, della qualità dei laureati, della qualità dei percorsi formativi e di come questi percorsi formativi siano coerenti poi con le necessità che ha la società in rapidissima evoluzione a tenere conto di chi consegue un titolo di studio. Teniamo conto, e questo è un tema per nulla affrontato finora, dei processi di intelligenza artificiale e della presenza dei robot all'interno del mondo del lavoro che sconvolgeranno, come sta già avvenendo, in maniera radicale l'offerta formativa. Le scuole e le università sono assolutamente impreparati rispetto a questi percorsi. Il secondo tema è quello relativo alla emergenza sociale. Oggi, in tutto il mondo, e in Italia in modo particolare, per ragioni note, c'è la sicurezza e un tema fondamentale. Non solo questo dal punto di vista teorico, cioè andare a compenetrare libertà e sicurezza è un tema endemico delle società contemporanee, come opportunamente notava Sigmund Bauman, così come anche il rapporto tra sicurezza e libertà di fronte alla emergenza del terrorismo islamico, che dal mio punto di vista, come i nostri studenti sanno, è un fenomeno transeunte, mentre molto più grave e pericoloso è la presenza della criminalità organizzata, che sta modificando in modo strutturale l'economia dei paesi mondiali. Quindi il concetto di sicurezza è molto esteso. Quindi va dall'aspetto sociale, riguarda il benessere e la crisi economica, i processi di globalizzazione, le tecnologie, fino all'aspetto ambientale. L'aspetto ambientale è un dato strategico, perché incide anche sulle modifiche del clima e le modifiche climatiche hanno un rapporto diretto con la definizione dell'ordine mondiale, perché incide su tantissimi aspetti, perché la carestia, la siccità comportano variazioni di costi di materie prime, di generi alimentari, di immigrazione, di spostamenti di persone che avvengono all'interno dei territori. Così come il concetto di sicurezza oggi è direttamente e immediatamente legato con l'emergenza del terrorismo e la percezione è molto elevata, sebbene in Occidente, come è noto, la possibilità di un attentato terroristico è inferiore di molto rispetto alle morti che possono avvenire per caduta nelle vasche da bagno. Quindi è una ipotesi estremamente remota. E dal punto di vista statistico, così come il concetto di sicurezza è strettamente legato col tema della criminalità organizzata. Alla fine degli anni 90, non a caso, un direttore dei servizi di un paese occidentale, Eker Wertherbach, capo dei servizi segreti tedeschi, diceva della Germania federale, diceva che il XXI secolo sarà contraddistinto da una rotta senza quartiere tra stati legali e poteri criminali. Lo scenario è pienamente questo. Basta vedere quello che accade nei paradisi fiscali o nella City di Londra, che secondo alcuni è contemporaneamente la prima piazza finanziaria del mondo e anche il primo centro di riciclaggio del mondo. Allora, un altro riferimento culturale interessante è quello di Claire Sterling, giornalista che viveva a Firenze, giornalista americana che viveva a Firenze, che proprio sull'onda della globalizzazione nascente nei primi anni 90 scrive un libro illuminante, un mondo di ladri, dove dice come il ruolo del crimine, delle organizzazioni legate all'illecito, ecco, stava uniformando l'economia mondiale. L'intelligence. L'intelligence, come sapete, non è una brutta parola, ma è un metodo di selezione delle informazioni di cui abbiamo bisogno tutti. Le persone per sopravvivere nell'oceano della disinformazione imperante, le aziende per riuscire a competere nella globalizzazione selvaggia e gli Stati per garantire il benessere e la sicurezza nazionale. Su questo aspetto andrebbe svolto una riflessione interessante, cioè della simmetria che c'è tra Stati da un lato e organizzazioni terroristiche e criminali dall'altro. C'è una simmetria profonda che danneggia gli Stati, che rende gli Stati spesso incapaci a fronteggiare questi fenomeni. E in questa simmetria, che riguarda le leggi, le frontiere, le risorse economiche, la struttura, secondo me il limite maggiore è rappresentato dalla diversa modalità di selezione delle classi dirigenti. In democrazia le classi dirigenti vengono individuate in base alle elezioni o ai concorsi. Nelle organizzazioni terroristiche e criminali avviene invece secondo criteri diversi. sulla base dell'efficienza dell'organizzazione. Perché in questi contesti è fondamentale la sopravvivenza dell'organizzazione. Per cui i dirigenti di queste organizzazioni puntano all'efficienza delle strutture che sono chiamate a dirigere, a differenza di quello che avviene nelle democrazie, dove prevalgono criteri di tipo diverso. Il criterio chiave, la stella polare, è il concetto della public choice, della teoria della scelta pubblica. Cioè le risorse vengono indirizzate dai rappresentanti democratici in funzione prevalentemente della loro rielezione. Allora, il tema è che negli ultimi anni l'intelligence è entrata a fare parte del linguaggio comune. Se voi ascoltate i telegiornali o leggete un quotidiano trovate questa parola magica che viene invocata dalle democrazie, come se fosse l'arma segreta per contrastare la deriva del terrore. Salvo poi utilizzarla come comodo capro espiatorio quando gli avvenimenti si verificano. Lo scenario qual è? Lo scenario è molto interessante. Oggi assistiamo a una profonda trasformazione dell'intelligence. L'intelligence è uno strumento, come abbiamo detto per tutti, e più che funzione di analisi, di previsione, ha una funzione di comprensione del presente. Questo è un salto culturale importante, strategico, e che quindi fa diventare l'intelligence una occasione anche di studio scientifico, e studio scientifico che diventa un punto d'incontro di tante scienze, anzi riunifica le scienze, sia quelle umane che quelle scientifiche. Una delle professioni maggiormente ricercate dal mercato attualmente è quella del data scientist, cioè dello scienziato dei dati, dell'analista delle informazioni, che richiede informazioni non solo dal punto di vista informatico, ma anche dalla capacità di analizzare le informazioni che vengono estratte attraverso gli algoritmi, attraverso le procedure dell'informatica. Quindi questa divisione artificiale tra saperi dell'intelligence potrebbe trovare una composizione, perché l'intelligence è conoscenza. L'intelligence deriva da intelligenza, che è una dote prettamente umana. Quindi l'intelligence ha a che fare con la razionalità, ha a che fare con la capacità di selezionare le informazioni. Allora, l'impegno che noi stiamo presentando è un impegno che parte da lontano e che non nasce da un bisogno di segretezza, ma da una esigenza di trasparenza. Come vi dicevo, abbiamo iniziato nel 99 con i primi corsi legati alla comunicazione pubblica. Nel 2001, pubblicazioni sulla rivista Per Aspera De Veritatem su comunicazione pubblica e intelligence. Nel 2003, Intelligenza Università. Nel 2002, con la rubettina di Tore, le pubblicazioni di Robert David Steele, che è un libro centrale, Intelligence, Spie e segreti in un mondo aperto, e poi il testo di Cossiga, Abecedario, è firmato dal Presidente con l'appellativo di dilettante, nel senso che lo aveva scritto per diletto. Allora, poi nel 2007 partiamo con l'esperienza del Master. Nel 2008 c'è il centro studi, del primo centro studi che avviamo, così come il Master l'anno prima, nelle università italiane, che adesso stiamo trasformando in laboratorio. Poi nel 2009 la collana del centro studi, che finora ha collezionato sette volumi, che vanno da Intelligence and Ranked, che è stato un testo che ha valorizzato quattro lavori di tesi, che per la prima volta collega questo aspetto. Poi, Cultura della legalità, nel 2010. Intelligence e sistema peridenziario, che oggi è di straordinaria attualità per quanto riguarda le emergenze del terrorismo fondamentalista. Poi un libro, Cossiga e l'intelligence. Poi Open Source Intelligence e cyberspace, di Antonio Tetti. Poi Intelligenza e scienze umane, una disciplina accademica per il ventunesimo secolo. Poi Intelligenza economica e guerra delle informazioni. Così come altri testi sono in uscita, come adesso vi dirò. Il 2015 abbiamo ripreso con la quinta edizione. Il 2016, ad aprile, abbiamo avuto un incontro alla conferenza dei rettori italiani, alla CRUI, dove abbiamo esposto l'esperienza dell'Università della Calabria e abbiamo poi provocato un protocollo d'intesa che si è sottoscritto nel novembre successivo tra la stessa CRUI e il Dipartimento dell'Informazione per la Sicurezza, per sviluppare gli studi sull'intelligence nelle università italiane. E in quella sede il segretario generale della CRUI, Alberto De Tone, ha proposto l'idea di una laurea professionalizzante triennale in intelligence. Nel 2016 l'edizione che è in corso è stata inaugurata dall'allora sottosegretario di Stato e le informazioni per la sicurezza Marco Minniti, attuale ministro degli interni. E quest'anno, il 2017, è stato un anno in cui sono esplose tutta una serie di iniziative e di attività. Abbiamo ripreso l'attività del centro studi, abbiamo avanzato, come vi dicevo, la proposta di trasformazione dal centro studi in laboratorio di documentazione scientifica, abbiamo attivato il sito Intelligence Lab su che vuole essere un punto di incontro scientifico, su chi si occupa di intelligence in Italia, dove c'è il resoconto delle attività che andiamo svolgendo, dove faremo partire presto la rivista italiana di Intelligence che faremo in modo che sia riconosciuta con i crismi accademici della scientificità. Il 19 di maggio abbiamo tenuto un convegno Moro e l'Intelligence, con storici e con esponenti politici come Cirico De Mita e Luigi Zanda. Nel giugno successivo abbiamo organizzato un convegno sui dieci anni della seconda legge sull'intelligence, che è un convegno che ha avuto molti esperti ed è stato inaugurato anche questo dal ministro degli interni Marco Minniti. Poi abbiamo collaborazioni con diverse università, come quella di Udine, come con l'Università Uninettuno e tante altre. Vi dicevo dell'esperienza in Spagna nell'Università di Catalogna, il primo dottorato di ricerca in Intelligence sviluppato in Europa. E abbiamo in corso tre libri della nostra collana, Intelligence e Portualità, che ha come titolo Il pericolo viene dal mare, che sarà presentato il 13 ottobre al Tropea Festival. Poi stiamo per pubblicare, credo che ce la faremo entro l'anno, sia un libro sulla Cyber Intelligence di Antonio Teti e sia lezioni di Intelligence, che raccoglie alcune delle principali lezioni delle edizioni del Master che abbiamo svolto. E sono ancora in lavorazione sia il testo del convegno sui dieci anni della riforma della legge sui servizi e sia il testo su Moro e l'Intelligence, che vorremmo fare uscire nell'anno prossimo, in occasione del quarantennale dell'omicidio dell'assassinio di Aldo Moro, non sappiamo se a marzo o a giugno. Qualche settimana fa, come vi dicevo, abbiamo sviluppato l'Università d'Estate, anche questa la prima in Italia, l'abbiamo svolta a Soveria Mannelli dal 7 al 9 di settembre, inaugurata da due rappresentanti del Comitato Parlamentare di Controllo dei Servizi, il Vice Presidente Giuseppe Sposito e l'Onorevole Angelo Tofalo, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'interno del Copa Sirri. Poi abbiamo ottenuto la seconda lezione sull'intelligence e globalizzazione, la nuova via della seta, con Antonio Selvatici, che è uno dei massimi esperti italiani di contraffazione, consulente delle commissioni parlamentari, e con Giuseppe Rao, che è stato per 7 anni nell'ambasciata italiana a Pechino, che quindi conosce bene la realtà cinese. Abbiamo poi concluso sul tema fondamentale di intelligence e magistratura, sulla collaborazione necessaria, con il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Cosimo Ferri. Poi abbiamo somministrato il questionario, del quale vi parlerà tra poco il dottore Barberio. A me tocca, per dare poi la parola al dottore Barberio, illustrare i contenuti della presente edizione del bando, della settima edizione del Master in Intelligence. Sono previste 19 lezioni d'aula, con alcuni dei massimi esperti, vi dirò che c'è stato negli anni precedenti, e poi un'attività di laboratorio tutta dedicata alla cyberintelligence, che dal nostro punto di vista è il tema oggi principale per quanto riguarda l'attività dell'intelligence. Lo faremo insieme con i CT Sud, con l'Università della Calabria, con aziende private, tipo NTT Data, e anche con altre istituzioni. Tenete conto che da quest'anno fa parte del comitato scientifico del Master, oltre al professore Paolo Savona, oltre a Marco Valentini, oltre ai docenti dell'Università della Calabria, Luciano Romito, che è il direttore del Laboratorio di Linguistica, e Alberto Ventura, che è il direttore del Laboratorio del Mediterraneo Islamico, anche Paolo Boccardelli, che è il direttore della Lewis Business School. Tra i docenti di quest'anno, noi abbiamo, tra i docenti degli anni passati, che credo che quest'anno il corpo docente rientrerà in linea di massima su quelli che sono stati i docenti anche delle precedenti edizioni, dopo abbiamo avuto direttori e vice direttori delle agenzie dei servizi, Vittorio Stelo, Niccolo Pollari e Carlo Mosca. Purtroppo Luigi Ramponi non può esserci più, perché purtroppo non è più con noi, ma che è stato per tante edizioni un brillante docente del nostro Master, fino all'ultimo. Poi c'è stato il direttore della scuola di formazione dell'attuale direttore della scuola di formazione del DIS, Paolo Scotto di Castelbianco, il direttore della scuola del SIS e del SISM, vi ho detto prima, Navarra e Maccono, è stato il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre, il segretario generale del Ministero degli Esteri Michele Valenzise, il presidente dell'Aspen Institute e più volte ministro dell'economia Giulio Tremonti, l'ex presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante, il capo dipartimento del personale del Ministero degli Interni, cioè il prefetto dei prefetti Luigi Varratta, il direttore del centro di ricerca di Cyber Intelligence Roberto Baldoni dell'Università della Sapienza di Roma e speriamo di avere quest'anno con noi il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova Roberto Cingolani, abbiamo avuto da sempre il direttore di Limes Lucio Caracciolo, speriamo di avere quest'anno con noi anche Paolo Boccardelli, come vi dicevo, il direttore della Lewis Business School. Negli anni passati c'è stato il segretario generale della Cruy Alberto De Toni, il rettore dell'Università di Udine, c'è stato il responsabile della security dell'ENI Alfio Rapisarda, il direttore del centro studio americano Paolo Messa, il responsabile dell'analisi del rosso dei carabinieri Rubino Tommasetti, il responsabile dell'analisi del SISDE Alfredo Mantici e il direttore di Peraspera De Veritatem e attuale dirigente dell'Ufficio Legale del Ministro degli Interni, Marco Valentini, componente del Comitato Scientifico, come vi dicevo, i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Ferrara e Adriana Piancastelli, il decano delle relazioni internazionali italiane Umberto Gori e poi i generali Fabio Mini e Carlo Gianna, il responsabile della sicurezza dell'ENEL Carlo e Alberto Accardi e poi tanti altri, tanti altri. Quindi abbiamo avuto anche magistrati, come Nicola Gratteri, come Mario Spagnuolo, come il giudice Priore, Rosario Priore. Quindi ancora poi i nostri docenti, come il criminologo Francesco Bruno, che è uno dei più importanti criminologi italiani. Quindi come vedete c'è un parterre significativo che vedremo di incrementare ancora di più con altri docenti di pari livello e di questo valore. Quindi abbiamo anche dato spazio a giovani ricercatori, come Luca Pappalardo, del CNR di Pisa, Stefano Musco, dell'Università di Torino, Enzo Cotroneo, esperto di diritto islamico, così come esperti di intercettazioni, come Bruno Pellero, che collabora con le procure italiane, e Antonio Teti dell'Università di Chievi. E altri ancora se ne aggiungeranno. Quindi un laboratorio, il nostro master, che sta generando tutta una serie di attività e di iniziative. Il nostro obiettivo è un obiettivo eminentemente scientifico e accademico, perché qua siamo nell'università. fare diventare la disciplina dell'intelligence una materia accademica, così come accade in tante altre parti del mondo, soprattutto di cultura anglosassona. Una esperienza personale. Qualche giorno fa mi ha contattato la dirigente del liceo classico di Reggio Calabria, che era stata in visita di studio con il ministero in Australia. e ha visto che di fronte all'istituto di studi sulla difesa c'era un istituto di studi sull'intelligence. E quindi sta valutando la possibilità di sviluppare dei corsi di approfondimento proprio nelle scuole superiori per quanto riguarda la disciplina dell'intelligence. Così come un'altra attività che stiamo sviluppando come centro studi sono una specie di corsi di perfezionamento per diplomati e per laureati triennali in cui si possa approfondire la materia dell'intelligence. Quindi stiamo lavorando anche su queste cose. Quindi c'è una vastità di opportunità appunto per sviluppare in Italia gli intelligence studies. Quindi il tema è proprio questo. di fronte alla trasformazione che sta accadendo a livello di percezione comune sul tema dell'intelligence strumento che serve per comprendere la realtà uno strumento decisivo per difendere le democrazie dalle derive del terrore e della criminalità organizzata e anche la grande trasformazione che l'intelligence non è una materia esoterica per addetti ai lavori ma è una materia per tutti una disciplina di cui tutti abbiamo necessità per orientarci all'interno di una società in profonda trasformazione che prima di tutto richiede la capacità di individuare le informazioni rilevanti senza le quali noi siamo sballottati dalla propaganda che ci porta ad essere dei docili consumatori e dei distratti elettori. Allora, quindi l'intelligence ha necessità sempre più di creare scenari di senso e quindi ha bisogno sempre più di scienziati e meno di spie. Allora, quindi i temi sono veramente veramente importanti ecco su queste cose e su altre che stanno maturando in queste settimane che si aggiungono perché abbiamo costanti richieste e sollecitazioni tra l'altro completeremo la trilogia degli studi degli approfondimenti sugli uomini politici italiani perché secondo noi un uomo di Stato non può che essere un uomo di intelligence cioè che conosce e sa utilizzare in maniera adeguata lo strumento dell'intelligence abbiamo iniziato con Cossiga e l'intelligence abbiamo proseguito con Morell Intelligence e speriamo il prossimo anno di organizzare ci stiamo già lavorando sul convegno Andreotti e l'intelligence quindi credo che materiale di studio di interesse e tanto i termini per la presentazione delle domande alla nuova edizione del Master di Intelligence scadono il 30 di ottobre la iscrizione può avvenire esclusivamente online sul sito dell'Università della Calabria www.unical.it alla voce Master e possono presentare domanda tutti coloro i quali hanno una laurea di 5 anni oppure 4 anni del vecchio ordinamento perché si tratta di un Master di secondo livello e possono partecipare laureati di tutte le discipline appunto perché l'impostazione che noi abbiamo dato al nostro percorso di studi è multidisciplinare interdisciplinare considerando l'intelligence come un punto di incontro delle scienze umane e anche su questo abbiamo pubblicato un volume quindi si aprono scenari interessanti di studio ma anche credo che noi stiamo approfondendo un tema di cui ha urgente bisogno la società non solo dal punto di vista dell'elaborazione culturale ma anche dal punto di vista delle competenze specifiche allora dopo questa illustrazione do la parola al dottor Luigi Barberio ringraziandolo per il lavoro certosino che ha sviluppato aggiungendo che nel nostro sito stiamo caricando tutte le tesi di laurea che sono state nel corso degli anni realizzate che rappresentano un granaio di idee di previsioni di intelligenza di approfondimenti che è veramente importante pensate tra le diverse tesi di laurea ce n'è una di tanti anni fa che per esempio analizza l'impatto sul sistema politico italiano di un eventuale partito islamico così come sulle modalità di selezione degli operatori dell'intelligence in diversi paesi del mondo e ultimamente anche in Italia si sta attingendo questo è un merito degli ultimi anni del DIS delle agenzie di informazione e sicurezza del nostro paese stanno attingendo direttamente alle università per poter attingere a professionalità quindi si è aperto il mondo dell'intelligence anche alla collaborazione universitaria con decine di road shop con decine di dimostrazioni nelle università italiane pubbliche e private per illustrare che cos'è l'intelligence cosa si prefigge e di quale professionalità ha bisogno ho concluso la parola al dottor Luigi Barberio ringraziandolo ancora grazie Mario per avermi dato questo applausi grazie Mario per avermi dato questa opportunità di collaborare con la tua organizzazione con il centro studi con l'intelligence lab al di là del fatto che è un enorme piacere aver seguito il corso proprio perché come vedremo anche dalle risposte dei diciamo i masterizzati delle precedenti edizioni è un corso è un master che apre in maniera considerevole la mente e dà diciamo una serie di informazioni offre un punto di vista estremamente stimolante sul concetto di intelligence il corpo docente poi è uno di quegli aspetti che è stato fortemente apprezzato dai masterizzati delle precedenti edizioni e questo dà ulteriore giustizia dell'elenco dei nominativi che è parziale che ha fin qui espresso il professor Caligiuri andiamo a vedere un pochino alcuni elementi di fondo di questo questionario il questionario è stato diciamo somministrato esclusivamente è l'analisi qui riportata fa riferimento solo e soltanto a coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni è stato somministrato non in maniera diretta è stato somministrato per il mezzo di una piattaforma che è una piattaforma informatica quindi diciamo ognuno l'ha potuto realizzare nella tranquillità del suo domicilio hanno risposto rispetto al totale dei masterizzati delle precedenti edizioni del master circa il 72% il 71-79% dei partecipanti allora innanzitutto cosa abbiamo potuto fare traviso questo questionario abbiamo potuto tirare un profilo dei partecipanti sappiamo con più puntualità con una fotografia un pochino più puntuale chi sono stati i partecipanti delle precedenti edizioni dopodiché che adesso andiamo a vedere diciamo la partecipazione ha una preponderanza naturalmente maschile però ogni un terzo delle persone che partecipano al master è di sesso femminile quindi diciamo allora sono 69% partecipanti di sesso maschile di tutto l'insieme dei masterizzati il 72% ha risposto al questionario come dicevo prima di questi il 69% partendo al sesso maschile e il 31% al sesso femminile quindi voglio dire non è da sottovalutare diciamo questa questo tendenziale equilibrio tra i partecipanti freddo e sesso l'età media a cui partecipano al master è 34 anni e sono diciamo il gruppo di questi masterizzati ha raggiunto la laurea che ricordiamo essendo un master di secondo livello era un'area magistrale a 25 anni quindi diciamo partecipa al master mediamente nove anni dopo aver conseguito il titolo di laurea quindi diciamo è un master che ha un'audience un target anche di persone che hanno maturato per certi versi esperienze di carattere professionale infatti adesso ci fermiamo ancora sulla laurea come diceva prima Mario Carli Giuri diciamo anche il target di persone che hanno una laurea più disparate perché c'è una forte attestazione nelle lauree tipo giurisprudenza oppure no scienze politiche ma abbiamo anche partecipanti che vengono da economia e commercio da quell'area di studi da ingegneria lettere e filosofia e così via la sede di conseguimento del titolo di laurea non è principalmente la Calabria perché come vedete da questa da questa colonna sulla destra solo il 34% dei partecipanti al master è uno che ha conseguito la laurea in Calabria quindi c'è una capacità anche di attrarre al di fuori dei percorsi di studi squisitamente calabresi infatti abbiamo un 24% che perviene dopo aver conseguito la laurea nel Lazio un 12% che proviene dopo aver conseguito la laurea in Campania e così via poi a cadere verso le altre regioni quindi ci sono molte sedi di laurea che poi determinano l'interesse verso questo tipo di percorso è importante anche vedere il luogo di residenza cioè il 69% ha la residenza in Calabria mentre ci sta un 31% che vengono da altre regioni oltre che dall'estero perché è un master che richiede diciamo anche una propensione a un certo tipo di disponibilità temporale per poter seguire attentamente le varie fasi del corso questo grafico mette in evidenza poi cerca di mettere in evidenza la posizione del masterizzato al momento dell'iscrizione al master e al momento della somministrazione del questionario quasi a voler mettere in evidenza che cosa è accaduto poi sul suo percorso un momento dopo il master abbiamo diciamo una preponderanza di contratti a tempo determinato o comunque si tratta di persone che sono impegnate cioè voglio dire che hanno un profilo operativo dettato da una attività che viene svolta nell'ambito delle proprie professioni abbiamo anche lavoratori autonomi e la cosa che è simpatica a notare è che al momento della smissione del questionario si incrementa la quota di persone che hanno migliorato tendenzialmente la loro posizione lavorativa le motivazioni ecco questa è una domanda diretta in cui è stato chiesto di esplicitare sostanzialmente per quale motivo uno si è iscritto a un percorso sobbarcando anche un onere finanziario perché ha un costo tra parentesi diciamo che da queste edizioni si è riusciti anche ad armonizzare ancora meglio il costo ed è tendenzialmente diminuito rispetto alle precedenti edizioni allora non ci sono in termini di approccio a questo percorso non ci sono aspettative lavorative forze perché chi partecipa partecipa proprio perché si muove rispetto a un interesse di carattere culturale scopre poi dopo durante la partecipazione che si creano delle premesse per migliorare diciamo la propria competenza e le proprie skill professionali proprio perché la considerazione che faceva il professore mette a disposizione una serie di strumenti che possono essere utilizzati nella quotidianità lo vedremo nelle risposte successive cioè nel momento dell'aspettativa non è carico di attese anche dal punto di vista lavorativo o meglio non è solo carico di questo ma poi dopo la soddisfazione tende ad aumentare in maniera considerevole infatti la serie di slide che vedete adesso mettono in evidenza diciamo una serie di giudizi le colonne quelle con le 5 esprimono un giudizio tendenzialmente fortemente positivo le colonne quelle con l'1 quindi a sinistra un giudizio tendenzialmente negativo allora la motivazione ha trovato risconto nell'attività trasformativa svolta come vedete la stragrande maggioranza attesta risposte sulle colonne 4 e sulle colonne 5 quindi c'è una forte soddisfazione pur essendo avvicinato al corso senza un'eccessiva aspettativa in termini di vantaggio per quanto riguarda le attività lavorative e così è per tutti questi tipi di 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 quesiti che tendono a testimoniare un'estrema positività mi soffermo velocemente gli obiettivi formativi l'organizzazione didattica vedete sono sempre le colonne a destra che esprimono un'estrema soddisfazione una della delle colonne dove la soddisfazione raggiunge livelli elevatissimi e la competenza e la qualità dei docenti che viene giudicata da tutti i masterizzati quindi sono informazioni raccolte ribadisco sui partecipanti alle prime cinque edizioni del master sono elevatissime gli argomenti trattati in modesta oriente quindi diciamo il percorso è giudicato in maniera estremamente positiva dai masterizzati arriviamo a quella domanda che rispetto alla fase iniziale testimonia una risposta rispetto all'esperienza fatta tenendo presente che sono domande formulate a persone che hanno seguito nelle cinque edizioni precedenti il corso e quindi hanno messo in qualche modo a confronto l'esperienza del master con il loro percorso professionale anche successivo al master ritieni che lo stage è stato utile per le firmature e le materie professionali come vedete anche in questo caso le due pilette del 4 e del 5 rappresentano un tasso di soddisfazione elevatissimo abbiamo anche una serie di suggerimenti i suggerimenti diciamo che si tratta di una serie di espressioni di carattere qualitativo perché non è un'indagine naturalmente quantitativa ancorché ha toccato il 72% dei partecipanti al master sono tutti suggerimenti che tendono in qualche modo a rendere ancora più forte soprattutto non tanto la fase accademica formativa d'aula perché è giudicata estremamente vincente la qualità e il mix del corpo docente quando diciamo suggerimenti tesi a migliorare ribadisco sono tutti persone che hanno seguito nelle prime edizioni lo stage la fase di stage dei laboratori sono infatti i due punti di forza delle ultime due edizioni del master perché sono stati messi ancora di più a fuoco i profili delle aziende con cui svolgere lo stage e soprattutto i laboratori con il tema della cybersicurezza come ha appena detto il professor Caligiuri quindi voglio dire i suggerimenti siamo diciamo il corso ha anticipato i suggerimenti di questa analisi perché voglio dire è stato in grado di prendere e quindi da contezza delle scelte fatte sostanzialmente da ampia giustificazione alle scelte fatte la fase finale del questionario è forse infatti alla soddisfazione e quindi il consiglio è esplicitato da questa domanda consiglieresti il master a qualcuno solo nell'11% dei casi abbiamo una risposta negativa quindi un giudizio tendenzialmente non positivo di questa esperienza mentre quasi l'89% dei masterizzati esprime un giudizio così positivo da consigliare di seguire il master anche ad altre persone abbiamo chiesto anche di esprimere il perché in tre aggettivi in un'affermazione qui c'è una piccola carrellata che dà ulteriore ampia giustificazione alla soddisfazione che è stata testimoniata nelle slide precedenti sono proprio riportate questa era una domanda aperta vengono riportate così come espresse sulla piattaforma formativo interessante e intrigante curato da professionisti necessario per conoscere il mondo in cui vivi fondamentale per interpretare i fatti e difenderti dalle insidie vitale per prepararti con consapevolezza al futuro sembrano diciamo affermazioni perfettamente coerenti con il tema e diciamo l'obiettivo formativo che è dato al master ce ne sono altre poi pubblicheremo naturalmente queste slide sul sito cosicché chiunque potrà approfittare di questo piccolo momento di conoscenza e di questa fotografia grazie e ridò la parola al professor Carigio grazie il dottore Barberio che è stato molto bravo abbiamo svolto veramente in profondità un lavoro che abbiamo posto alla base per promuovere la settima edizione del master per vedere chi si iscrive e quali sono gli esiti delle edizioni precedenti quindi in maniera tale che si sviluppa il lavoro scientifico che abbiamo fatto anche in questa direzione nel corso della mia esposizione ho dimenticato di dire che poi sono previste delle attività di stage molto interessanti cioè negli anni passati ci sono stati stage svolti in Calabria e nel resto d'Italia oltre prefetture questure ma anche all'ADN Cronos a Sky TG24 all'ENI all'ENEL NTT data quindi con una serie di opportunità di crescita notevoli e stiamo ancora ampliando l'offerta delle attività di stage costantemente è interessante notare proprio il quadro che il dottor Barberio ha illustrato di tutti gli iscritti un terzo hanno conseguito la laurea nelle università calabresi quindi il resto nelle università del resto d'Italia quindi frequentare questo percorso è un percorso che per alcuni aspetti è stato considerato di eccellenza perché si è mossa gente da tutta l'Italia e noi intendiamo appunto aumentare sempre di più la qualità della docenza e dare questo taglio per cercare di ampliare le basi della conoscenza che non a caso gli studenti hanno opportunamente individuato un master che apre la mente che ci fa comprendere il mondo in cui viviamo è proprio il compito che dovrebbero avere i percorsi formativi prima di saper fare qualcosa sapere a cosa serve e sapere in che modo utilizzare le competenze che vengono acquisite quindi l'intelligenza è uno strumento per comprendere il mondo la selezione delle informazioni l'intelligenza è conoscenza l'intelligenza è intelligenza inter leggere è la derivazione del termine come mi spiegava il grande Tullio de Mauro cioè quindi collegare insieme mettere insieme fondere creare connessioni tra i vari saperi e le varie informazioni quindi se ci sono domande altrimenti completiamo la nostra illustrazione di questa del questionario che troveremo poi sul sito www.intelligencelab.org e poi promuoveremo tutto il mese di ottobre faremo una serie di iniziative per promuovere le domande di iscrizione alla settima edizione del master partendo appunto dai risultati ottenuti in queste prime sei edizioni in questi primi dieci anni di vita è già un master che dura dieci anni vuol dire che si è svolto in tutte le edizioni che abbiamo promosso vuol dire che è una richiesta da parte degli studenti e da parte della società quindi nei prossimi giorni ci saranno tutta una serie di attività e di iniziative che si svolgeranno in tutta la regione ricordando che la scadenza dei termini e il 30 di ottobre possono partecipare tutti coloro i quali hanno conseguito un'area quinquennale o quadriennale in tutte le discipline quindi questo il messaggio il messaggio finale è che l'intelligence può essere uno strumento fondamentale non solo per comprendere la realtà di oggi ma anche per cercare di definire quella di domani tanti auguri e grazie per esserci stati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti